Vuoi tu un micro hi-fi con multi cd? Che? Vuoi tu un aspirapolvere super leggero? Ma che dice? Non lo so. L'avete fatta la lista nozze da Troni? No! Chi fa la lista nozze da Troni trova tutte le migliori marche e tutti i servizi offerti dalla catena italiana di elettrodomestici. Troni, non ci sono paragoni. Beh, sarà per un'altra volta. Sono cose che succedono, eh. Pensate che chi fa la lista nozze gli regalano subito un telefonino. Ma dai? Sì. Chiara! Chiara!